e buonasera buonasera a tutti i ragazzi di twitch e benvenuti in questa nuova live su twitch che vanno fatte queste live su twitch vanno fatte vanno fatte sono importanti questa le farò semplicemente arena solo e basta basta solo tranquillo tranquillo arena solo la farò semplice Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quest'auto non la posso neanche vedere. Oh, um... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, qua c'è stato qualcuno. Oh, qua c'è qualcuno. Dai, dai, muori, 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 muori. Oh, qua c'è. Oh, qua c'è. Oh, qua c'è. Fa questo. Non ho parole. Non ho parole. Fai disconnessione. Scusate. E' che proprio ogni volta. Tipo se te non hai 70, sei più potente. Se invece non li hai diventi anche scarsa. Ad esempio, voglio uscire da qui e non mi fa uscire. E non mi fa uscire. Voglio uscire da questo profilo. No, non puoi. Allora, postazione al camera. Disconnessione. Non c'è di qua. Non c'è di qua. Non c'è di qua. Non c'è di qua. Non c'è. Non c'è di qua. Pres của vorái della direzione. Crecًa a. ok ok ora direi di mettere qualcosa un commento vediamo un po pierco 3 grazie mille pierco 3 del follow guarda non l'avrei mai detto cari te buonasera ai 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 qui oggi la gente che non esce al discord questo canale deve essere ritornare all'attività di un tempo il mio scopo è riportarlo a quella attività però deve essere diverso dal canale youtube quindi adesso faremo una cosa innovativa wow ah no meglio di no torna come ai vecchi tempi ma forse è meglio di no o meglio non fare nulla di innovativo ecco mettiamo questo green screen scadente buonasera feticista clap the you ma qui è come youtube live va in ritardo qui in diretta senza easily penso che qua sia senza se qua questo che qua sia senza comunque ora dobbiamo per la gloria del team user le quali tu non ci sei devo vincere quindi una partita la voglio vincere e mettere come high likes di questo canale e quindi ora mi devo insomma se la gioco bene se da mobile c'è il delay ma da pc non c'è ah ho capito ho capito veticista sì sì pierco tanto parla che non ci riesci ma comunque meglio che non lo fai ti potrebbero bannare potrebbero bannarci sia me che te quindi non conviene non conviene non conviene dai ma io ci provo adesso perché forse certo pierco certo i traietta blu molto bene pompa beh comunque devo dire che forse riesco riesco dai che attiviamo l'appigliato devo fare 50 ore di live per avere l'appigliato quindi dovrei stare 50 ore in streaming ma io non posso stare 50 ore in streaming per me è importante per gli altri è una cazzata tu devi sei pin per tu sei pin però devi ricordarti che te non sei pierco ma ti chiamerai pin cioè nel senso niente no come posso spiegartelo in modo che lo puoi capire te ti chiami pierco ok però ti chiami pin e quindi pin non è bannato dal team mentre pierco lo è ok quindi io sono pin tu sei pin esattamente tu sei pin tu sei pin per qua mi serve assolutamente lo scudo ok fine no quello hai i p e n e tu sei pin ricordati te sei pin questo pompa lo prendo perché non so mi ispira perché è molto leggero pronta mia skin è un rettile è meglio di pin pain è meglio di pin si è vero però lui si chiama pin ugualmente capo quindi sono nel team visto che sono pin pain è di naruto e io purtroppo l'ho seguito poco naruto seguito dragon ball one piece quando ero quando avevo gli anni quando avevo gli elementari ma quello no naruto l'ho visto poco dovrò metterlo lei ha ferito i miei sentimenti non so ma è la verità perché naruto non so non mi ha non mi ha andava in orari che io facevo nuoto quindi erano orari diversi dai miei con le mie cose che dovevo fare però sia un po non ha attirato la mia attenzione possiamo dire non l'ha attirata purtroppo come dragon ball che invece l'ha attirata naruto non l'ha attirata attenzione quindi io sono nel team perché sono niente non capisce niente chiaro chiaro mi dispiace darle queste triste informazioni ma io le sto dando possibilità e lei invece mi rinfaccia un piatto di pesce marcio in faccia quindi direi che lei la smettesse di sbattermi il suo pesce in faccia con queste stupidaggini e il pesce sono le tue stupidaggini ok quindi basta dire cazzo tu sei pin ok tu ti chiami pin non sei dentro al team pierco chiara mentre pin non l'ho mai visto prima d'ora in tutta la mia vita non ho mai visto pin mai mai visto pin quindi ragiona se pin non l'ho mai visto cosa mai dovrei fare per essere nel team senti io sono pierco traia voglio essere chiamato pierco voglio traia nel team visto che è l'unico a cui le frittanze che gli altri ci tengono essere a maggior ragione se ci tieni sforzati di capire quello che ti sto dicendo dai ce la puoi fare non è difficile sei fatti feticista anche città ok quindi devo chiamarmi in chat pin io ci rinuncio io ci rinuncio basta ci rinuncio ci rinuncio comunque io sono user sasuke ah piacere cioè piacere ben ben ho capito bene mi fa piacere che seguite diretto su Twitch magari qua porteremo Among Us con Discord ho caricato un po' Viola Pagnò bene mi fa piacere Viola Pagnò mi fa piacere qua anche qua metterò i points successivamente anche qua metterò i points per i moderatori che adesso non ci ho pensato però se le faccio meglio metterli pierco io te l'ho detto uh questa cosa fa non mi ricordo più pesca ma non fa niente erano come le altre canne ha lo stesso sapore e lo stesso odore delle altre canne uguale alle altre canne ok 60 rimasti molto bene adesso facendo i punti dobbiamo dobbiamo appunto diventare competitivi per il team bello sto c'è adesso tre camperare eh tre camperare no non lo farò meglio che non troviamo nessuno che sia più interessante però io 3.000 punti sto puntando ai 4.000 grande eh sì magari dai che roba che palle o mi sto rompendo pierco devi ragionare perché la chat ci è arrivata quello che stavo cercando di dirti quindi prova a trovare una soluzione qua secondo voi c'è un tizio? secondo me non c'è nessuno guarda bello belli mi lagga la line forse perché sono in macchina sì 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 a me non lag a me non lag può darsi viola può darsi a me non lag a me non lag ok quindi non so perché ma ho fatto 60 punti sono più sicuro di fare di poter rischiare con qualcuno ma non si trova nessuno prendiamo il rift eccolo qua qua c'è un tizio io lo punto lo punto lo punto sono stato un po' troppo uh quello se l'è preso eh se l'è preso se l'è preso bello secco al cecchino al cecchino al cecchino al cecchino al cecchino al cecchino eh 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 guardatelo eh porca eva qua me la sono me la sto un po' rischiando troppo me la sto rischiando troppo me la sto rischiando troppo me la sto rischiando di brutto eh dai che muore dai che dai 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 e let's go e nice gg 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 un fight vinto finalmente ok non aveva un cecchino migliore sembra che il suo loop è caduto tutto quindi ora possiamo prendere il rift se indovino sta cosa mi metti il team come piacolo tiara? no come pin qualcosa devi rinunciare ah il virus comunque dovresti mettere nella specie di points che ti scrive nei 300 se guardi la live te lo da puoi mettere i cold ah hai ragione si 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 hai ragione è una buona idea prossimamente lo farò hai ragione ok qua stanno fightando io mi intrometto io mi intrometto vai ladro di kill ladro di kill ladro di kill ladro di kill top ladro top ladro ladro di kill bello sto gnomo io io però vedo pierco 3 non so chi è questo pierco 3 ma no pierco lo so che sei te cosa non sei pin sei pierco 3 eccolo qua un tizio cavolo questo è cazzuto questo è cazzutissimo dai dai bene daje questa mitraglietta è davvero forte mai buttarla quello scuro nella 50 è un peccato porca misera l'ho mancato se dovevo starci un po' di più porca misera l'ho mancato eh sono stupido io dovevo starci un po' di più nice comunque si eccolo la e dentro il box e dentro il box e dentro il box adesso anch'io qua forse io questa qua punto a vincerla punto a vincerla punto a vincerla se questo fa una cazzata che apre il box di qui eh ma mi sa che non è stupido non è stupido non è però non è in safe eccolo qua eh non fa cazzate sembra una persona un po' attenta eh no non si distrae non si distrae se avessi le granate ci proverei se avessi le granate ci proverei ma forse non mi aveva visto forse non mi aveva visto ho fatto una cagata meglio scappare non me la sento buona non me la sento buona non me la sento buona e che che si Porca mia, ecco, questi qua li odio, questi cancri che si intromettono. Questi cancri che si intromettono li odio veramente tanto. Ecco, vedete? Guarda, questo qua muore adesso. Muore per colpa di quello là, mi dà proprio fastidio sta logica. Cioè, dovrebbero esserci tipo una linea di confine. Guarda di delle target, attenzione, giocatore cancro in arrivo. No, cazzo, 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 cazzo. Porco Dio, porco Dio, porco Dio. Non ho parole, non ho parole, non ho parole. Una partita rovinata per questi giocatori, alibito, senza parole. Sono veramente sconcertato, sono veramente sconcertato. Sono sconcertato, sono sconcertato. Devo dire di andare più aggressivi con la skin. Andiamo più aggressivi. Andiamo più aggressivi, inteso, andiamo più aggressivi. Ecco. Più aggressivi. Più aggressivi. Più aggressivi. Andiamo più aggressivi. Eh, purtroppo, quando perdo così, non mi contengo. Non mi contengo. Mi disorcio dalla bestemmia, mi sarei potuta risparmiare, ma... Ma è brutta. Poi qua si può, quindi... Cioè, anche di là si può, ma qua si può in maniera più... Più accettabile, o che qua lo accettano di più, diciamo. Mi sa che stiamo nello stesso game, spero di no. Io spero di no. Qua si possono mettere le canzoni. Dato che qua si possono mettere le canzoni. E vi voglio azzertare. Allora... Ascoltatevi, cari vicciotti. Quei Fortnite... Sono le tipologie di giocatori. Ma che cazzo succede? Sono i giocatori che vincono. E i giocatori che perdono. Ma io vi prometto... Cari giocatori di Fortnite... Che verrete eliminati, prima o poi. Ok. Dopo questa cosa cringe, possiamo andare. Andiamo. Se avessi un computer... Capo, ma lei la notte... Lei la notte fa male. Probabilmente sì. Tanto ancora... Mezzanotte e dieci. Sono stanco, non dormo da tanto tempo. Non dormo da tanto tempo. Pagano che... Immagini che morivo così? Si va a scudo? Boh... Si va a scudo... Mamma mia... oh chi è questo cazzo fa vai vai qua se una bici troppa gente non ha rubato la kill non ho parole mi ha rubato la kill porca miseria pierco bastardo stream sniper godo succhia stream sniper su ma che vuoi fare ma cosa vuoi fare ma cosa vuoi fare godo 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 mamma mia stream sniper mamma mia mamma mia oh godo godo raga ma vaffanculo ma cosa stai in sniper io spero che scherzi madonna ragazzi ma vai a cagare mi stava uccidendo l'avete visto tutti l'avete visto tutti che mi stava uccidendo ma cosa ha salvato mi volevi uccidere meno male che hai perso qua mi hai fatto anche ballare ma meno male che si è subito interrotto godo eh vabbè vai sono un calcoglione nuovo video non penso proprio si chiama fan di capo user grande viola mi fa piacere mi fa piacere che fate queste cose mi fa molto piacere non ho parole non ho parole stream sniper comunque ci riprovo non ci contare se vuoi morire un'altra volta riprovaci non ho parole perché non capisco perché devi fare queste cose mi deludi molto sinceramente perché scusa mi deludi così facendo ma con queste cose con questo modo di fare qua è un modo molto severo cioè sinceramente un po' di rispetto per lo streamer un po' di rispetto per lo streamer miseria ladra ma almeno meno male perché se morivo altro qua bandito bandato io volevo solo essere negli user eh è visto è perso vuol dire che non sei forte cioè vuol dire che non sei più forte di me visto che sei morto in teoria è così che si valuta che si valuta la forza io voglio killarti ma non ce la fai ma non ce la fai non ce la fai non ce la fai ok arrenditi non dica così eh io non io vorrei non dire così però è se la verità è questa è questa c'è gente nel team che è molto più forte di me comunque però tu non puoi pretendere ti descrivi come se fossi un dio ma non sei un dio al massimo sei un soldato semplice a questo è meglio tenerselo eh no me le tengo perché per scappare sono comode piuttosto faccio così piuttosto faccio così ma era un pesce ma era un pesce boh io campererei per due posizioni meglio camperarsela un attimo mi sento fortissimo ho ucciso una Renegade in arena mi sento fortissimo grande ma per carità la Renegade non l'hanno rimessa hanno rimesso il nuovo stile ma quella originale no quindi GG non so come fai a stisnei per armi assurdo 60 punti presi io vorrei fare la vorrei fare una sfida io vorrei lo farei una sfida chi dà il time più lungo a Pierco è esattamente è una bella sfida ottima sfida tra poco la proporrò la proporrò ai moderatori posso darti un time out illimitato posso anche darti tipo un miliardo di secondi però è come un ban un miliardo di secondi quasi posso fare basta fare barra time out metto un miliardo di secondi sei bannato per un miliardo di secondi praticamente chissà quanto tempo è anni penso forse quant'è sarà un miliardo di secondi un miliardo oddio bello sto posto bello sto posto sembra bello non ci sono mai stato capo io posso entrare nel se ti batto se mi batti adesso viola vediamo perché con te la situazione è un po' diversa cosa perché c'è bella una palla da tennis distruggo tutte le uova di ragno la tana benini di ragno ma io voglio salire qua ma che cos'è sto posto è stranissimo c'è un posto gigante non posso o qua non penso di camuffarmi cioè la gente mi vede credo che la gente mi veda qua posso lo so certo pierco certo ah c'è pure il rift ah lo prendo a questo punto potrei camperare però non mi va sicuramente non mi va va bene così si lo so lo so lo so e ora adesso vediamo comunque 30 punti ok 15 rimasti perché comunque anche te devi fare il provino come gli altri se decido di rimetterti ma non so se ritiro cioè perché ti vedo molto attiva nelle dirette quindi sembrerebbe che tu ti possa meritare una seconda possibilità però ancora non lo so magari un'altra un'altra volta si feticista un'altra volta si un'altra volta si feticista che adesso finisco un po' di arena qua eccolo là c'è un tizio forse ci vado ecco ci vado con questo ci vado con questo aggressivo oh madonna che non posso chiudere la porta si è buggato è il provino no te lo non te lo rispiego più perché mi sto un po' stufando seriamente non mi viene mi sta passando la voglia che ci vado qua c'è un tizio 9 rimasti di già mamma mia di già il 9 non rispondo guarda sono potrei dire potrei dire ma no guarda basta c'è un attimo il cervello surriscaldato mi sento proprio il cervello surriscaldato lo sento proprio caldo sta esplodendo mi trattengo mi trattengo mi trattengo mi trattengo mi trattengo ok riprovo ok riproviamo sta un attimo esplodendo me lo sento veramente 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 quando succedono cose così bel problema 20 minuti ancora per completare mi sa che siamo in partite diverse meno male meno male ti ho sorpreso io controllo che qua non ci siano skin sospettose ecco questo che mi segue anzi forse forse nella stessa io spero un po' di no io spero di no stavolta voglio andare in una città con un po' più di azione laboratori vado ai laboratori un po' più di azione vediamo spero che siete nelle diverse pure io rip non siamo nella stessa meno male meno male almeno male qua però c'è troppa gente scelto un posto brutto troppa gente odia un'arma c'è un'arma qua bello buonanotte buonanotte scontagato sto giocando viola pagoni bella quella emoji ok mi butto nella mischia così una kill pat e andiamo e andiamo e andiamo cg devo prenderci la mano pistola è sottovalutata sottovalutata ma è molto potente un'arma molto sottovalutata secondo me così sottovalutata che l'ho appena buttata via vabbè dai forse per l'inizio non faccio di cognome pagoni pagno fai di cognome pagno oh e la madonna quanti erano a questo punto prendiamo questa oh io direi che abbiamo fatto due kill potremmo anche andarcene dopo voglio fare trio arena eh io mi sa che dopo stacco però comunque volevo giocare con voi mattinata verso le mattine però alla fine non riesco mai devo fare le mattine per giocare con voi ciao giovanni givanni01 givanni01 ciao uè la madonna che potenza chi è ma è il bot è il bot il bot lasciamolo stare io direi andarla a pushare pagnoni faccio di cognome ho capito eccolo qua figlio di ralph cazzo che figlio di puttana che figlio di puttana non ho parole mi dissocio non lo so ti ho invitato sempre non sapevo che eri in line ti ho invitato sempre non sapevo che eri in line su twitch vabbè non fa niente non fa niente fa niente non ti preoccupare che palle che palle che palle vabbè dai riproviamo era andata discretamente bene mi trova così sono pronto io tanto vado in città dove ci sono tante persone così ti ammazzerò prima semi-sniper comunque è brutto semi-sniperare non ti consiglio di farlo pierco perché un giorno con il tuo nome poi ti segnaleranno in massa se esseri in sniper ti bloccano il profilo mezzanotte e 15 chiudo perché sono stanco questa qua in realtà sono da 3 ore in live perché contando youtube ma vabbè ma vabbè mi sa che siamo in diverse godo sinceramente godo ok 97 persone comunque vieni ad andare tutti quanti eh sì guardate come sono rintontito dai server privati io ria andrei a Shark Industries però ci sarà troppa gente quindi io dico io dico parco oggi per fortuna posso stare fino alle 2 sveglia beata te cioè beata te buon per te perché io potrei sempre ma è brutto dopo un po' è brutto perché infatti adesso mi manca il sonno però adesso oggi stanotte sarà la prima notte in cui dormirò più o meno regolarmente niente anche ora meno male meno male meno male meno male perché lui mi vuole sempre da imperare e così non riesco meno male se in effetti pensavo che c'era qualcuno come ho sentito questa la voglio piazzare qua a fiducia a fiducia 200 punti in una partita grande mamma mia tanta roba magari io rifacessi 200 punti in una partita questa casa è un posto bellissimo tranquillo ma il loot fa schifo aspetta dovrei farlo di ferro perché così non si vede perché ecco lo faccio di ferro così non capisco me ne vado in quelle isolette la spera non ci sia nessuno spera non ci sia nessuno 1800 punti cost wow grazie mille Giovanni grazie mille guadagnati sudando ma ce l'ho fatta 9 sp nice molto bene benvenuti a tutti grazie mille di essere qua eh sì peccato proprio ora vabbè dai forse adesso questa partita la devo giocare bene per tutte le persone che ci stanno guardando che sono tanti meglio giocarla bene meglio giocarsela bene ma su twitch c'è più gente non lo so su twitch è più facile crescere questo sì è molto facile molto facile crescere invece su youtube è un po' più difficile la gente qua ti trova subito se ti vuole cercare poi diciamo che qua c'è un po' più infatti vabbè no questo non lo posso questo è molto severo non posso dirlo perché sarebbe troppo severo capo inizia a streammare su twitch no no non penso viola penso che continuerò comunque anche su youtube su twitch farò qualcosa ma ma la mia la mia piattaforma è youtube anche se non ci guadagno nulla ma tanto non guadagno nulla comunque anche qua quindi nel senso non non è non è per i soldi perché non li guadagnavo non li guadagno nulla qua certo però che comprare un pc sarebbe il sogno della mia vita cioè il sogno di quella mia vita adesso perché cioè io penso che lavorare un mese e poi prenderselo lavorare no due mesi perché uno stipendio e prenderselo sarebbe questo il mio obiettivo che comunque con un lavoro con un lavoro normale meglio twitch che youtube qui puoi mettere cose yeah boy il mio obiettivo sarebbe questo fare un lavoro ti danno 500 euro al mese ma anche 250 al mese anche se è impossibile in 4 mesi te lo pigli 5 mesi te lo pigli 5 mesi di lavoro io farei 5 mesi di lavoro e comprami un pc ah davvero ma no non è vero cazzata feticista cazzatissima questa è una grande cazzata sai perché è una cazzata posso giocare con te eh k y k v s y magari adesso adesso si vabbè dimmi il tuo id intanto dimmi il tuo id in chat così me lo segno perché adesso non so perché adesso forse dopo questa me ne vado però visto che siamo in un po' di persone magari il resto quindi dimmi il tuo id che ti aggiungo adesso siamo un po' di persone si pierco adesso vediamo adesso vediamo perché visto che siamo un po' di persone magari mi fermo k v s y ok ora me lo segno si certo ragazzi tutti quanti adesso mi sono segnato il tuo id anzi aspetta se non mi vede nessuno non staccare please eh sono un po' stanco vabbè intanto te la invio così magari se facciamo due squad si infatti infatti una squad magari la facciamo ma anche più di una k v s y punto perché comunque ecco siamo a 9 dai si effettivamente una squad per ringraziarvi meglio farla però adesso finisco sta partita cavo dio fare il terzetto coppie preferisco squad perché io l'arena la preferisco fare in solo l'arena è una cosa che mi piace fare in solitaria ho capito viola ho capito ho capito ho solo un problema con il microfono va bene vabbè non devo occupare comunque ti stavo dicendo vado a mangiare sciocchia dopo allora non posso più dirtelo buon appetito no stavo per dire che non è una sostituzione perché c'è la gente che fa le reazioni ai video sul tubo rosso su twitch fanno le reazioni alle cose sul tubo rosso quindi non è una sponsor e poi comunque non è una sponsor perché non ho detto niente non ho detto niente di male almeno parliamo del team allora mi sa che non faccio la squad con te se parli di quello non la faccio se parli di quello la faccio solo con faccio una coppia con con KVSY ma se parli del team no no ma grazie mille Pierco3 molto gentile non so non so anche io vorrei giocare infatti forse una squad una squad finale in chiusura oddio che paura pensavo che ce l'avesse con me mi son cagato addosso mi son cagato addosso non ho parole non ho parole ho giocato male ho giocato male ho giocato male ho giocato male ma cosa gli scildini ho giocato malissimo mi dissocio sono stanco si vede perché sarò stanco vabbè facciamo una squad in chiusura wow ho giocato male ho giocato male ho giocato male ho giocato malissimo ho giocato male sono stato preso dagli spettatori ho giocato male no assolutamente non accetto questo invito metto lobby pubblica se un pro seriamente grazie mille Giovanni sono Chris scusa ho visto adesso il post non ti preoccupare non ti preoccupare facciamo una squad in chiusura muto subito perché adesso parla del team mutato subito no non lo so due non lo so vabbè mettiamo squad buonasera vai va bene così uè killer ciao buonasera buonasera vai facciamo una squad in chiusura vai posso entrare io chi è Giovanni 01 io io ah sei te killer ok 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 easy vai viola adesso ci penso viola adesso ci penso magari dopo ne faccio un'altra credo eh ma se stai attivo vedi che giochiamo tranquillamente perché mi hai espulso perché non c'erano più posti sto per staccare Christian06 faccio quest'ultimo perché tanto fetticista tanto tra poco me ne vado capito faccio una squad veloce con i primi che entrano so che siamo in nove mi fa molto piacere però sono un po' stanco voglio dormire voglio dormire voglio dormire sono stanchissimo non dormo da troppo tempo poi rischio di non fare più diretta perché ho sempre solo dai giochiamola bene se la vinciamo la metto su iglikes sulle iglikes iglikes di twitch se le guardano in molti c'è un sacco sette persone le guarderanno le iglikes quindi mi raccomando vinciamo va bene non ti preoccupare ok smutami se farli allora se sento la parola team ti muto subito se sento la parola team ok to smutato ama fai eco però fai eco allora dove volete andare corso commercio va bene fai eco pierco però si fai eco e stacca e riattacca stacca e riattacca e riattacca e riattacca e riattacca e riattacca dimmi eco comunque non mi muta dai vabbè non ti muto dai tutto che ho detto che ho detto che ho detto che è attivo nelle live che si fa il profino ma intendevi a me che sono attivo no intendevo a viola stai scherzando viola attiva più punti di te mamma 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 viola mi professore tutta 5 mesi eh 5 mesi facebook foray viola tutti si deve data sulle mese prima sì c'è gente da me dai pierco concentriamoci sulla partita non facciamo sti discorsi vabbè pierco bella pierco bella vai è qua dentro è qua dentro aspetta aspetta l'ho colpito si grande bel lavoro per lavoro questo lavoro di squadra questo è lavoro di squadra bellissima che li fare questa rifare ma sinceramente si continua a parlare di queste cose io voglio concentrarmi sulla partita è lo smutato c'è stato che mescoli riavano c'è già una media di spettatori che operavano gli 18 anni era fattibile ma filo dica un suicidio faccio lei di mattina quando c'è la scuola hai ragione che iniziano alle 9 è vero potrei farla si la farò veramente la parola e lo so è vero non puoi votare se minorenne da k da k vs ora prendiamo la scheda prendiamo la scheda prendiamo la no no non pia e la tua natura porca miseria ma non ha tuttato miseria ladra ci voleva allora sono morto si bravo dillo alla prossima grazie mille a tutti per aver visto questa live noi ci vediamo domani ciao ciao capo